La Valpiana di Gandino La Valpiana di Gandino, nonostante il suo nome, è in realtà una grande profondità. Si estende per diversi chilometri e al suo interno, tra i boschi, si trovano molti sentieri e percorsi, oltre a tante cascine. In particolare, un percorso è stato dedicato alla scrittura di Mario Rigoni Sterne ed è quello che porta con un bellissimo sentiero alla baita del Monte Alto. Un piccolo rifugio in un grande paesaggio che ci permette di coniugare le splendide parole di Mario Rigoni Sterne a queste visioni di montagna, lontane da qualsiasi rumore, ma vicine al cuore. Grazie a tutti!